E' certo che a Strosanti qualcosa sui residui attivi l'avrebbe anche potuta dire, visto che ha parlato di qualche numero, minimale. Avrebbe potuto parlare del 1.472.000 euro sospesi fra i residui attivi per i pasti nelle mense scolastiche. Vabbè, ha preferito ragguagliarci su 23.000 euro di spese per le riviste. Grazie.